Forum sullo stato dell'olivicoltura e sulla produzione di olio extravergine di oliva nel nostro paese si è tenuto nell'auditorium di Verona Fiere, con la partecipazione di esperti del settore, docenti universitari, giornalisti specializzati e con le testimonianze di alcuni rappresentanti internazionali. Olio, è ora di cambiare. Su questo tema si sono incentrati e succeduti gli interventi nell'indicare le nuove prospettive per il settore. A dir la verità, i relatori presenti sul palco di prospettive positive per l'olivicoltura italiana ne hanno individuate alquanto poche. Coordini e lavori Rosanna Magnano, giornalista di Radio 24, il Sole 24 Ore. Primo intervento da parte della responsabile dell'ufficio associazionismo e normativa della Regione del Veneto, incentrato appunto sugli aspetti della PAC 2023-2027, sugli strumenti di promozione della collaborazione fra agricoltori e di finanziamento in vari segmenti del settore. Tra coloro che si sono mostrati maggiormente propositivi, il direttore AIPO, l'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli, Enzo Gambin, pur individuando nel sistema attuale una serie di criticità sia per quanto riguarda la retratezza del complesso normativo che regola il settore, sia per le difficoltà negli interventi a contrasto dei parassiti della pianta che ridimensionano fortemente la produzione olivicola, stante le sempre più stringenti normative europee che escludono o limitano l'uso di antiparassitari e fitofarmaci. Unico fra i relatori, intravede la prospettiva futura in Italia di coltivazioni intensive dell'olivo nelle pianure dove vi sia disponibilità di acqua. A seguire Marco Oreglia, editore Flos, oli e giornalista, il quale ha individuato con puntigliosità tutta una serie di situazioni critiche e di caduta del settore olivicolo oleario, con una visione sostanzialmente negativa e pessimista se non si andasse rapidamente ad un cambiamento della situazione. Il guaio è che di indirizzi concreti di cambiamento nel suo intervento ne ha indicati pochi, se non nessuno. Diego Begalli, prorettore dell'Università di Verona, docente di economia e marketing agroalimentare, ha puntato l'attenzione sul prezzo come elemento discriminante anche nella proposta di vendita degli oli extravergine. Ha indicato la necessità di coprire la frammentazione delle tante di IOP con marchio ombrello di più immediato riconoscimento. Di seguito Nicola Mori, docente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Verona, è intervenuto sul tema della difesa dell'olivo tra cambiamento climatico, innovazione e sostenibilità. Intervenuti inoltre i giornalisti Luigi Cremona per l'aspetto alimentare nell'utilizzo dell'olio e Lorenzo Vitali in merito alle iniziative del Comune di Lugnano in Teverina per la conoscenza e la promozione degli oli extravergine di oliva. Ha portato la sua testimonianza Marco Markovic dell'Issia Tourist Board. Sentiamo da alcuni relatori e personaggi presenti fra il pubblico la loro opinione sul forum e sulle prospettive per l'olivicoltura e la produzione olearia futura. Un saluto a tutti, siamo oggi in una sede molto prestigiosa che è l'ente fiera. Il convegno vede relatori che arrivano veramente da tutta Italia, quindi si vede l'importanza che ha la provincia di Verona proprio nel settore. Gran parte della produzione olearia veneta è a Verona, abbiamo due DOP, l'Est veronese e il Garda. Abbiamo molti produttori che chiaramente hanno un interesse nel cercare di trovare queste nuove frontiere, queste nuove tecnologie proprio legate alla produzione olivicola. Il tema, i temi principali sono due, cercare di garantire a queste aziende agricole un reddito perché se vogliamo che le nuove generazioni, i nuovi imprenditori agricoli continuino a produrre, continuino a investire nell'olivicoltura veronese, bisogna dare a loro gli strumenti necessari per arrivare ad avere un reddito. E dall'altro canto il tema fortissimo, importantissimo, la riconoscibilità di un prodotto. Il prodotto è un prodotto di estrema qualità, deve essere riconoscibile e chiaramente il marchio, il riconoscimento e soprattutto il grande lavoro che fanno le organizzazioni e i produttori proprio in questo senso è fondamentale. Noi come Regione Veneto ci siamo, ci siamo sempre stati in questi anni. Io sono stata eletta a fine 2020 e sono sempre stata vicina a loro. Noi lavoriamo su questi due fronti che sono un po', secondo me, gli obiettivi da qui al futuro proprio per i giovani e per i giovani imprenditori della nostra provincia. Enzo Gambin, direttore AIPO. Nell'olivicoltura odierna quali sono le difficoltà riscontrate? Sono molteplici queste difficoltà nell'olivicoltura italiana, legata sia a un cambiamento climatico, sia a un'attività legislativa, oramai vecchia, pronta per essere variata, adattata alle nuove esigenze. Poi abbiamo un mercato che è altalenante per quello che riguardano i costi, ma che schizzano sempre più verso l'alto e perciò portano il prodotto finale a scaffale ai consumatori con un valore che alle volte difficilmente può essere o far parte dei loro acquisti. Un'olivicoltura che è ancora legata a un territorio prevalentemente colinare, dove c'è ancora mancanza di acqua, dove le condizioni climatiche sono variate, con inverni miti, estati molto caldi, perciò presenze di patologie emergenti. È un'attività di contrasto a questi parassiti che va verso una farmacopea sempre più ridotta dalla comunità europea. La mancanza di personale, anche questo, incide in una difficoltà olivicola. La mancanza di personale è data anche dalla scarsa remuneratività che le aziende olivicole riescono in questo momento ad avere. Un pacchetto, perciò, di azioni che sarebbe opportuno andarle a cambiare. E' il motivo del convegno di oggi. Per quanto riguarda invece l'olivicoltura intensiva, come attuarla e quali sono le difficoltà che comporta? L'olivicoltura intensiva o superintensiva, con oltre mille piante ad ettaro, potrebbe essere un'azione futura che può fare l'Italia. Dobbiamo però far presente che è un'olivicoltura che si adatta dove c'è acqua, perciò nelle pianure, nelle alte pianure. Un'olivicoltura che, nella sua intensità di piante, ha la necessità di variare le attività agronomiche. Anche gli aspetti fitosanitari mutano. E poi abbiamo le varietà. Al momento, in Italia, abbiamo un'attività di ricerca e di sperimentazione ancora limitata. Perciò bisogna fare ricorso a delle varietà che provengono dalla Spagna, che provengono dall'Ancareccia, a incroci fra queste. E questo è anche poco accolto da un certo tipo di cultura. Si vede in un'olivicoltura superintensiva che non accoglie una biodiversità. Ma a questo punto bisogna anche considerare che l'agricoltura si chiama agricoltura perché deve fare economia. E in questa economia c'è sicuramente l'aspetto ambientale. Ma l'aspetto ambientale, per essere curato, mantenuto, deve essere anche sostenuto. E questo è un altro problema dell'olivicoltura. Gianfranco Comincioli, Presidente col Diretti Lombardia. Qual è la situazione delle aziende olivicole in Lombardia? La situazione delle aziende olivicole in Lombardia vorrei dire che riflette un po' quello che è l'andamento di tutto l'areale del nord Italia. È un andamento difficile dovuto alla situazione climatica che in questi ultimi anni ha caratterizzato le stagioni e che ha comportato chiaramente lo sviluppo di alcuni insetti che sono chiaramente di danno rispetto alla cultura e anche alcuni assetti alieni che nel frattempo si sono inseriti come la cimice asiatica i quali favoriscono lo sviluppo e l'ingresso soprattutto di alcune fitopatie storiche che sono legate ad esempio alla lebra o alle malattie fungine che chiaramente compromettono gran parte della produzione. In questi ultimi anni abbiamo assistito anche a delle perdite di produzioni molto molto importanti che rasentano quasi la totalità e questo è stato un andamento che ha avuto stagioni alterne ma che sta compromettendo chiaramente la continuità delle attività olivicole. Qual è il rapporto tra Veneto e Lombardia in questo campo? Beh, credo che non ci sono confini, le culture non vedono confini geografici noi abbiamo sempre avuto modalità di collaborazione e gli olivicultori credo che hanno una vicinanza una condivisione delle problematiche che vanno al di là dei confini, non esistono confini l'unico aspetto che ogni realtà territoriale ha la valorizzazione delle cultive che ha sul proprio territorio e su queste magari costruisce dei percorsi e delle traiettorie di promozione e di comunicazione. L'ambizione e l'aspirazione di ogni olivicoltore è di riuscire a fare l'olio migliore del mondo e questa è chiaramente la vocazione che ognuno di noi ha e la passione che ci trasporta a gestire una pianta che è straordinaria, che ha delle valenze ambientali, posaggistiche straordinarie e che soprattutto esprime una qualità in eccellenza, un'essenza vorrei dire che diventa da un punto di vista nutrizionale e salutistico una delle cose migliori di cui possiamo godere in questo territorio straordinario che è l'Italia che ne ha e ne annovera circa 500, perciò un patrimonio unico al mondo di cui ne possiamo andare sicuramente molto orgogliosi e fieri. Massimiliano Consolo, Business Developer Markup Nel mercato internazionale quali sono i parametri di riuscita per la vendita dei prodotti olivicoli? Innanzitutto buongiorno, grazie per la domanda, la domanda è molto interessante. Io sono circa 25 anni che mi occupo di vendite e da 15 anni che mi occupo della vendita anche di olio extravergine di olive chiaramente di altissima qualità. Per quanto mi riguarda il mio pensiero è cercare di far trasparire, cercare di far passare il valore del prodotto e non il prezzo. Sembra semplice ma invece è molto molto complicato anche perché, come si sta parlando in questo convegno, è molto difficile avere dei parametri di scelta per un consumatore che è poco attento e soprattutto che ha poca cultura nell'olio. Però è importantissimo far passare il valore e per poterlo fare l'olivicoltore deve sicuramente fare un passo in avanti, deve uscire dall'autoreferenzialità, io sono il più bravo, io sono il più buono, la bottiglia è più bella, eccetera, eccetera. E deve entrare in un mondo un po' più complesso, che è anche quello del mercato dell'olio, che è complesso, altalenante, pieno di novità continue, sia sotto l'aspetto fisiosanitario, sia sotto l'aspetto di tutti gli aspetti. Quindi è inutile rimanere ancorati a quello che è l'autoreferenzialità, piuttosto di aprire a persone che sono professionisti in ambiti diversi, e quindi nel marketing e quindi nella comunicazione, che è fondamentale, nell'aspetto commerciale, che è il mio aspetto, perché se noi pensiamo di poter far trasparire, di poter far capire quali sono i valori della nostra azienda, noi dobbiamo avere le armi giuste per poterlo fare. Quindi ci vogliono persone che sappiano effettivamente di quello di cui stiamo parlando, nella comunicazione esterna, nella comunicazione interna, nel commerciale. Io personalmente sono andato a vendere in una ventina di paesi al mondo, quindi nell'America, in Asia, ho seguito venditori, ho cercato broker, ho trovato importatori. Non è semplice far passare il valore, è importante avere una comunicazione adeguata delle persone che siano formate per poterlo fare. Rosanna Magnano, coordinatrice del forum, Olio è l'ora di cambiare. Ma da chi ha coordinato l'evento, cambiare in che modo, in che senso? Beh, proprio questo è il problema, la difficoltà è capire il futuro di questo settore, soprattutto in una congiuntura così complicata e complessa come quella che si sta creando, cioè in cui i costi sono alle stelle per le imprese, il clima la fa da padrone, nel senso che rende l'agricoltore insicuro anche delle scelte agronomiche che vanno fatte in campo. Quindi è davvero una tempesta perfetta, uno dei più grossi problemi da affrontare, lo ricordavano i produttori che sono intervenuti al convegno, è proprio quella di produrre. Quindi la prima difficoltà da superare è quella di tornare a produrre, poi rafforzare l'uliveto italiano, l'uliveto nazionale e qui bisogna capire anche come conciliare questa espansione, questo rafforzamento con le esigenze di tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente. Tutti erano d'accordo, tutti sono d'accordo sul fatto che la ricerca, la scienza sono fondamentali nell'aiutare l'agricoltura a superare le difficoltà che si stanno presentando e che sono davvero epocali. In questo insieme di incognite ci sarà un futuro poi per l'ulivicoltura? Io credo di sì, io credo di sì perché c'è tanta passione, c'è tanta storia, tanta esperienza e poi noi siamo anche grandi consumatori, quindi c'è l'orgoglio di un settore che vuole continuare a esistere, ci sono le competenze, c'è il know-how, c'è una grande ricerca, quindi secondo me a livello di sistema paese vanno trovate le soluzioni e sono sicura che si troveranno.